un salve a tutti da philips89 siamo qua su pantheon doctrine vediamo cosa possiamo fare qui c'è una telecamera attacco automatico overwatch ricarica mira stabilizza raccogli un agente abbatti sensuale ok problema da parte quello non me ne ero reso conto che devo fare devo terminare il turno ahah ehi let's cook it neutralizza silenziosamente il bersaglio da me amai tu se entro e qua non mi dice che mi scopri e qua si può andare vai qui no allora questo questo allora lui lo lasciamo qui allora cerchiamo di abbattere tutti perché così avremo percezione insufficiente standing by for orders a 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 questa porta è chiusa allora vai qui a 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 rigenerazione della percezione c'è una telecamera potrei salire su a 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 salvo leslie a 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 e da dove dobbiamo andare da qui possiamo salire a lasciamo quel documento lì non so a che cosa serve ma farebbe scattare l'allarme ora prevista a 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 va bene li posso esaminare documenti segreti raccolti nuovo fascicolo segreto creazione progetto granata fumogene Fender's on the line someone must have told him about our little trip put him through agent deadhead I regret to inform you an inspection of your operations is imminent why is that? hard to be sure but my money is on the allegations of an unsanctioned operation in Pakistan I literally have no idea what you're talking about Leslie isn't your handler anymore I am keep ignoring that and you'll lose a squad Fender out